Sono arrivati un po' a sorpresa queste dimissioni di Alessandro Pomella da rettore di Porta Crucifera, come mai? Ma intanto dico che a sorpresa a livello cittadino ovviamente, a livello di quartiere. Io erano alcuni mesi che ne stavo parlando con i consiglieri, soprattutto con il mio vice Simone Catalani, perché essere rettore di un quartiere ha anche degli obblighi. Quando gli impegni personali non riescono a far sì che io possa garantire la mia presenza in maniera costante, soprattutto anche in istituzione e in comune, oltre che al quartiere, è giusto fare un piccolo passo indietro e dare spazio a chi ha più tempo per portare avanti gli impegni istituzionali che un quartiere richiede. Non sono collegate alle tue posizioni sulla terza giostra? Ovviamente è stata collegata, no? Sì, sì, sicuramente molti mi hanno chiamato facendo questo riferimento. Sulla terza giostra mi sono sempre espresso in maniera negativa, ma non per partito preso, nemmeno per ideologie politiche, assolutamente. Questo ci tendo a ribadirlo ancora una volta. Chiaramente una giostra in più pone delle difficoltà ulteriori al nostro quartiere, e soprattutto tutta la macchina organizzativa che, come dicevo prima, sia a livello istituzionale di CDA che a livello di quartiere impone una presenza diversa, che al momento, con i miei impegni lavorativi, non ero in grado di garantire. Lascio quindi al mio vice, Simone Catalani, che è stato accolto da tutto il resto del Consiglio all'unanimità, una persona che già mi ha affiancato nei mesi scorsi, che andò in piazza al posto mio a giugno dell'anno scorso, una persona per bene, capace, che sicuramente saprà muoversi. Io rimango all'interno del Consiglio per dare un contributo quando sarà richiesto, e quindi, visto che il Consiglio Direttivo sta lavorando in un'unica direzione, anche il vice, il rettore nuovo Luca Minelli, è un altro giovane, quindi il discorso e tutti i progetti del Consiglio vanno avanti, tra cui appunto il campo prova e tutta l'attività, vanno avanti, e quindi non cambia praticamente niente se non il mio ruolo.